Sono un genio, ma tranquilli, non è contagioso Ciao, come stai? Forse ci conosciamo, ho mai visto da queste parti o è la prima volta che mi vedi Ti spiego in breve Sono Giuseppe Emanuele Cardinale Uno youtuber, un videomaker E da grande, cioè da un po' più grande di così Vorrei fare l'attore, lo sceneggiatore e il regista Staminchia Da qualche giorno ho raggiunto il traguardo di mille iscritti Una sudata Quindi ho deciso di dire il primo cazzutissimo contest Dell'Animals Cube Non lo sa nessuno che il mio canale si chiama Animals Cube Si chiama Animals Cube, va bene? Ok? Stai parlando con me? Ok? Trattandosi di un contest indetto da me Secondo voi che cosa avrò mai potuto mettere in palio? Cibo! Avete indovinato, lo so che lo stavate pensando Adesso vi dico Ci sarà un doppio contest Il primo rivolto a tutti gli utenti di Youtube Italia Il secondo in esclusiva per i residenti a Palermo e dintorni Osa mossa Ma procediamo con ordine anche se sono disordinato Partiamo col primo contest Chiunque vorrà partecipare dovrà realizzare un video di massimo 30 secondi Dove spiega perché si è iscritto al mio canale E dove invita gli altri a iscriversi al mio canale Che paragolata Caricatelo su Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, YouPorn Se lo mettete su YouPorn lo guardo molto prima degli altri E condividetelo con l'hashtag Mi piace cardinale In che senso? Lo fate vero? Che siete duci se lo fate? Siete duci? Ovviamente per partecipare al contest bisogna essere iscritti al mio canale E aver messo mi piace sulla mia pagina fan Che te lo devo fare? Il premio in palio sono i cannoli Tipo questi Lo so che parteciperà solo mia sorella E mi toccherà dare cannoli a lei Se invece siete di Palermo o dintorni Vi offre una bella briochezza da Sansone Tipo quelle che pubblico io ogni giorno Con la panna Con gli smarties delle cose buone Partecipare a questo contest è più facile Basta postare su Facebook un'immagine dove leccate O siete in procinto di leccare La cosa che secondo voi è più simile a un gelato L'hashtag da usare questa volta è Mi raccomando Riepitevi la home di foto tipo queste Un retrogusto strano Sì anche se non siete del palernitano e partecipate lo stesso Mi fa molto piacere Entrambi i contest scadranno il 5 marzo 2015 Alle ore 23.59 Il giorno di Pasqua Cioè potete caricare i video e o le foto Fino a quel giorno a quell'ora Il giorno dopo a Pasquetta Sperando di trovarmi ubriaco fradicio Imboscati in una fratta con sei svedesi Posterò sulla mia pagina fan i nomi dei vincitori E mi metterò d'accordo con i vincitori stessi via chat Per fargli avere al più presto il loro agognato premio Non mi resta che invitarvi a cliccare il bellissimo tasto che c'è qua sotto Quello dove c'è scritto mi piace E poi accanto quello ancora più bello Condividi Questi due tasti sono molto importanti E dovete usarli più stesso Perché come si dice in un famoso film di Ficarra e Piccone Ce n'è tanto di bisogno Ciao picciottazzi